Vanessa Paradis ha sposato lo scrittore e regista Samuel Benchetrit, lo rivela il giornale francese Les Parisiennes, spiegando che il matrimonio è stato celebrato sabato a Saint-Simeon, nella regione di Seine-et-Marne. L'attrice e cantante, ex di Johnny De, indossava un abito color crema e aveva tra i capelli dei fiori. Il marito invece aveva un abito blu. La cerimonia intima, a cui erano presenti qualche decina di invitati, è durata circa 30 minuti e si è tenuta nel municipio di Saint-Simeon, a est di Parigi. Alcune foto sul sito del giornale mostrano i due, che lasciano la sede del comune mano nella mano, mentre gli invitati lanciano dei coriandoli. Fra gli invitati anche il cantautore Matti Kedit, il cantante Raffaele e naturalmente Lili Rose, la figlia 19enne di Vanessa Paradis e Johnny Depp. La figlia è nata durante i 14 anni di relazione fra i due, che si è conclusa nel 2012. I due non si sono mai sposati e hanno avuto anche un altro figlio, Jack. Vanessa Paradis e Samuel Benjetrit, entrambi 45 anni, avevano ufficializzato la loro relazione ad agosto del 2017. L'attrice ha diversi legami con questa piccola cittadina francese di 900 abitanti vicino Colombiers. È proprio a Saint-Simeon che il padre è morto alla fine del 2017. Il padre possedeva un ristorante, Les Horses, nel vicino villaggio di Saint-Rémy Lavanne, spiega le Parisienne di Manche.